E pervescente e unica, da sempre, mixa bollicine e sorrisi. Il mito senza tempo della Coca-Cola fa moda e diventa un cult tra i giovani. Il gigante della bevanda diversifica i propri prodotti e lancia un'estate creativa nel segno del marchio più conosciuto al mondo. Ecco allora la nuova borsa, fatta con migliaia di linguette delle mitiche lattine rosse, intrecciate da corda bianca e tanta simpatia. E poi, per cogliere il lato Coca-Cola della vita, le nuove bottiglie colorate per gli autogrill, dove la storia del marchio importato in Italia nel 1927 racconta di una ricetta segreta, che ha preso per la gola milioni di persone, da quando fu inventata dal farmacista statunitense John Pemberton, l'8 maggio 1886 ad Atlanta. E se inizialmente era un rimedio per il mal di testa, ben presto la bevanda al gusto di caramello ha saputo conquistare il mondo, divenendo un rinfrescante compagno di viaggio per le strade di uomini e stagioni da vivere con frizzante energia, trasporto e tempo libero, o per incorniciare ricordi e serate che restano. E ora l'ultima trovata, il primo latte frizzante al sapore di frutta. Si chiama Vio ed è la nuova bibita a base di latte scremato, che sarà venduta in quattro gusti, limone, pesca, mango tropicale e frutti di bosco. In eleganti bottigliette da 237 mm di alluminio satinato bianco, con bollicine differenti a seconda del gusto. Un altro modo per illuminare l'estate e stappare il lato bello della vita.